Conosci mia cucina, è un tipo originale, non c'è uguale, non c'è uguale, non c'è uguale. Conosci mia cucina, è un tipo originale, moderna e assai carina, non c'è uguale, non c'è uguale, conosci un po' l'inglese, con moda assai cortese, sta a formolar po' io, se li incontri la mattina sul tramvai, si grida all'oh goodbye, se nel bar li invita a prendere un cocktail, se ne beve cinque o sei, oh, conosci mia cucina, che tipo sei docente, ti guarda sorridente, ma non c'è niente da fare. Conosci mia cucina, è un tipo originale, walala e assai carina, non c'è uguale, non c'è uguale, lei balla, balla, balla l'oh goodbye, conosce l'inglese, con moda assai cortese, mormora po' io. Se li incontri la mattina sul tramvai, si grida all'oh goodbye, se nel bar li invita a prendere un cocktail, se ne beve cinque o sei, oh, conosci mia cucina, e tipo sei docente, walala e sorridente, ma non c'è niente da fare. Il nostro corso gratuito è un'altra, non c'è niente da fare. Ho una cucina veramente deliziosa, che tutti i giorni ne combina qualche cosa, fa il tif e tappo di mattina per la casa, vacanziare, bubba, bba, bba, dischietare, a senificia dell'amor.